I carabinieri della campagna di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, hanno arrestato un 28enne di Capaccio Pestum per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari del nucleo operativo e radiomobili hanno pedinato e successivamente bloccato il giovane in località Borgo San Cesario. A bordo, nella sua autovettura, veniva trovato in possesso di 10 dossi di crack che aveva occultato nella tasca del Bermuda. Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto ed accompagnato su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno presso il proprio domicilio a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida innanzi al GIP. La sostanza è stata sottoposta a sequestro. Continuano intanto gli interventi al fine di riscontrare la presenza di complici e le dimensioni del fenomeno dell'attività criminosa in tutta l'area.